Si avvicina una nuova stagione importante per Selvino, quella natalizia, sempre grandi eventi, come vi preparate e che eventi ci saranno? Innanzitutto grazie Simone, grazie Antenna2, saluto tutti i telespettatori, venite tutti, vi aspettiamo sull'altopiano di Selvino Aviatico, sempre tutto l'anno, per Natale dal 3 dicembre all'8 gennaio, ci saranno dei fantastici mercatini di Natale, varie iniziative, spettacoli per grandi e per bambini, proprio in Piazza del Comune. Dietro Piazza del Comune c'è un parco vulcano dove sarà allestito un bellissimo villaggio di Natale, con bancarelle, street food, il trenino di Babbo Natale, un nuovo tipo di giochi di luce, quindi un certo tipo di illuminazione molto 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 bella e natalizia e questo è quanto, con delle belle novità. Si parla di novità, torna la notte nera, era piaciuta nel 2019 una serata speciale a cavallo dei 3-2 anni. Esattamente, infatti è tanto attesa ed è una bella novità e che, insomma, con tante belle sorprese lungo le strade di Selvino e nei parchi, per grandi e per piccini, dei bellissimi gadget, li stiamo proprio acquistando in questi giorni. Per la data, mi raccomando, tenetevi, diciamo, aggiornati sulle nostre pagine social dell'altopiano Selvino Aviatico, su Facebook e su Instagram, e sono aggiornate quotidianamente. Quindi un Natale pronto ad arrivare, per chi sarà sull'altopiano, sarà allettato quindi a tutte le manifestazioni, quali sono le istituzioni coinvolte? Allora, il villaggio di Natale e tutte le iniziative sull'altopiano di Selvino Aviatico sono finanziate e organizzate dal Comitato Turistico di Selvino, dall'amministrazione comunale Assessore al Turismo e Cultura Mario Vitali, col suo staff dell'Infopoint. Cito e saluto la Sara, la responsabile, e poi c'è tutto un contorno di volontari e situazioni con i quali e grazie ai quali tutto è possibile, insomma, sull'altopiano. In primi si vogliono salutare gli alpini e noi per loro. Adesso non resta che aspettare i turisti che arriveranno ai villeggianti. Esatto. Noi tutti vi aspettiamo, ma già da oggi, con tante belle sorprese, ci sono anche delle belle novità come commercio, con tante nuove aperture e riaperture.